Da entrambe le formazioni, anche perché lo Yolo è una matricola in questo campionato di prima categoria e il San Giusto invece già da qualche stagione milita a ridosso dei play-off e l'obiettivo della società è chiaramente quello di esta prova ad appoggiare per la somma un'ovra offensiva Flussi la conclusione a rete, Allman sicuro in presa, terzo minuto di gara Vito va sul fondo di Noto, palla al centro in area di rigore, ancora Carletti Carletti va giù, calcio di rigore per il San Giusto Biscardi contro Coveri, la rincorsa di Biscardi, la conclusione a rete, San Giusto 1, Yolo 0 Biscardi non ha perdonato, aveva intuito Coveri, ancora a difendere la sfera Attenzione Rosso anche per Carletti Fallo di reazione, per la verità non eccessivo ma nell'area di rigore della formazione ospite Biscardi quasi direttamente verso la porta, rimbalza il pallone davanti a Coveri che poi riesce in due tempi a far sua la sfera Speriamo chiaramente che non sia niente di grave Alla via in questo istante la ripresa e poi fuori anche Tempestini sostituito da Marchio, questa è una scelta tecnica Fagotti poi il lancio immediato verso Biscardi Biscardi per Liscio, Liscio ancora verso Biscardi, la conclusione, la parata di Coveri e poi il fuorigioco di Liscio Caputo cerca in qualche modo di contenerlo, la conclusione di Biscardi, ancora palla sul primo pallone, la rete di Liscio per il 2 a 0 del San Giusto che va a chiudere il... Buona fase questa del San Giusto, palla in profondità per Biscardi, in velocità Biscardi va a puntare Caputo Prova ad andarsene Biscardi, il cross basso, ci arriva Zecatrenai e magari riaprire negli ultimi 10 minuti, dare un po' di pepe a questo finale Ma Stur la conclusione, Holman sicuro in presa, Stur dalla lunga distanza la conclusione si distende, quantomeno Holman Ha fatto la partita si può dire, specialmente nel secondo tempo E quindi l'appuntamento con voi tutti è rinviato di 7 giorni alla prossima telecronaca oppure chiaramente lunedì sera nel consueto appuntamento con il gioco è fatto